In questo momento i dati sono utilizzati molto poco, i dati che vengono prodotti in agricoltura e in tutte le altre fasi legate alla catena agroalimentare sono utilizzati molto pochi, però ce ne sono tanti, in questo momento ne vengono raccolti tanti e sono una grande fonte di valore, perché è una grande fonte di valore? Perché consentono di prendere decisioni migliori. Chi ha iniziato a utilizzarli, a elaborarli attraverso software, attraverso strumenti, magari in maniera integrata anche all'interno della filiera, cos'è che ha ottenuto? In primo luogo spesso una riduzione dei costi e poi il passaggio successivo è la possibilità anche di valorizzare meglio il prodotto verso il cliente finale o proprio il cliente della prima intermediazione. Grazie per la visione!